A Mauri Di Beiro l'Italia è stata battuta 3-1 dal Canada, peccato forse soprattutto per i primi due set. Sì, i due primi set veramente la squadra sembrava che non era arrivata, diciamo così. Abbiamo lasciato un sacco di tempo per entrare in gioco, abbiamo ripreso al terzo set, però stare sempre indietro, giocare così è difficile e soprattutto un campionato che mette un po' di pressione alle ragazze, la prima volta che sono qui è così, è brutta la storia, la situazione, deve stare indietro e cercare sempre di andare indietro al risultato. Infatti nel terzo set quando abbiamo iniziato bene poi ha comandato l'Italia il gioco? Diciamo così, quello che abbiamo allenato abbiamo visto sul terzo set. Se questa storia avesse successo dall'inizio, la storia magari cambiaria, sono sicuro che cambiava. Adesso decisiva la partita col Brasile? Sì, questa è una squadra forte, esperienza, però che si può giocare. Come abbiamo visto oggi, momento buono della nostra squadra, si può giocare. Sì, se può giocare. Come sono? Grazie